Via Libera del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, lo sblocco di oltre 12 milioni di euro a valere su fondi PNRR per la bonifica dell'ex SICAM di Santo Stefano Magra e dell'ex Raffinire IP della Spezia. Alla prima area andranno 6 milioni di euro per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di bonifica emessa in sicurezza permanente, alla seconda 6,4 milioni di euro per completare l'intervento di bonifica e ripristino ambientale. L'individuazione di questi siti è stata infatti frutto di un lungo lavoro fatto a monte dalla regione per individuare gli interventi di bonifica più urgenti sul territorio regionale e stilare una graduatoria in base ai rischi e allo stato di inquinamento delle varie aree. Entro il 2026 queste aree torneranno nella piena disponibilità delle amministrazioni comunali e dei cittadini aprendo così le porte anche a nuove ipotesi di sviluppo, ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Giacomo Giampedrone. Questo risultato porterà significativi progressi per i progetti urbani rimasti in stallo per troppo tempo, spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Grazie a questi finanziamenti sarà possibile riprendere e completare l'operazione di bonifica interrotta a seguito dell'esecuzione parziale dei lavori da parte della precedente società. Soddisfazione espressa anche dalla senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, un'ottima notizia che permetterà di mettere in sicurezza e bonificare due importanti siti, il che porterà beneficio a tutto il territorio spezzino. A questo proposito il consigliere regionale Roberto Centi della lista Sansa ha presentato oggi un'interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta a che punto siano le operazioni di raccolta della documentazione necessaria e del loro invio al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relative all'area per riavviare e completare i progettati interventi di bonifiche di riutilizzo di una vasta zona, futura protagonista dell'espansione urbanistica della città.